Ben ragazzi qui Lorenzo oggi vi porto un nuovo video dopo da un sacco di tempo che non faccio video comunque vi voglio dire che due giorni fa ho fatto il compleanno e ho compiuto dieci anni e mancherò che non importi a nessuno comunque oggi vi porto un nuovo tutorial su come scaricare non leggere dal titolo come scaricare il nuovo Assassin's Creed Syndicate Syndicate che è questa pagina qui come vede per fare tutto questo dovete soltanto cliccare qui su questo download tolcent e vi abita questa schermata con scritta attesa 8 secondi ma se non volete aspettare cliccate per scaricare c'è scritto oppure clicca per scaricare voi premete la o dove volete cioè aspettate poi vi carica la pagina direttamente oppure premete è uguale non cambia niente vabbè comunque aspettiamo su questo che qua ci è scritto aspetta aspettiamo dobbiamo aspettare 5 secondi quando esce qui 5 secondi qui ecco aspettiamo ed ecco qui andiamo su skip add che prendendo un sacco di queste pagine qua che aprono sempre che danno anche molto fastidio ma molto fastidio ma molto si aprirà una nuova pagina su mega aspettiamo che la pagina carichi e niente una volta che siamo su questa pagina praticamente dovremo cliccare su scarica tramite il tuo browser questo clicchiamo e praticamente si aprirà finirà in un secondo proprio e niente adesso uscirà questo se voi lo volete salvare lo volete aprire se fate salva vi chiederà di estrarre però l'unica incazzatura è che quando voi cliccate sul torrent o quando estrarete il file estrarete il file vi darà la parola chiave e questa è una delle solite incazzature andate per fare questo dovete andare su questo dovete andare qui ma non sul sito ma insomma dovete è il sito la password come c'è scritto perchè se voi andate qua vi porterà sulla pagina principale quindi succederà che non avete la password ma se invece copiate il sito fate su ok vi aprirà il file aspettate un attimo che mi stanno chiamando si dimmi adesso scusate un attimo no no non ci credo infatti lo trovo mi è uscito con la piccola con il busto no eeeh no lui cazzo eh pensavo che era un altro di me peccato vabbè continuiamo col tutorial allora una volta che avete fatto qui praticamente avete finito avete finito avete finito avete finito di scaricare e una volta che aveva finito un attimo solo un attimo solo allora praticamente vi aprirà questo voi dovete aspettare che scusate vi vuole alessandro parla parla un if e vabbè lui mi porta sotto un if cazzo e cazzo vabbè comunque aspettate che finisca e niente scaricate il scaricare no montate l'iso e avviate il setup una volta avete finito di scaricare il gioco funzionerà tranquillamente ma l'unica cosa è che il gioco sarà in inglese quindi se volete il gioco in italiano dovete andare qua come c'è scritto qua aspettate la fine della prima cutscene e poi cambiate la lingua delle impostazioni della prima cutscene vabbè andate su impostazioni lingua e mettete italiano se è così perchè io non ho mai giocato questo gioco comunque ragazzi grazie per aver visto il tutorial su come scaricare Assassin's Creed Syndicate ci rivediamo al prossimo video ciao ragazzi